Responsabilità civile e sociale sono le missioni riaffermate orgogliosamente da Camera Condominiale che nel suo ultimo incontro pubblico del 2023 presenta quanto fatto a favore della comunità nel corso dell'anno. Non solo l'adozione della ruola di Piazza Montegrappa, il servizio di book crossing ambient drone, le azioni a favore del controllo di vicinato, ma anche le 250 ore di formazione e dulcis in fundo, le donazioni benefiche. Ultime in ordine di tempo, quelle a favore dell'Atletica Gavirate che il presidente Carmine Tirella intende investire tra l'altro per completare il pagamento di quote da parti di ragazzi in difficoltà e quelle all'Associazione San Vincenzo di Carenna, partner della Caritas in ottica solidale.